Ciao ragazzi, come va? Oggi un video oltreoceano perché sono già a Miami e ieri ci siamo già visti con i ragazzi di Hard Rock Crypto e entro un paio di giorni arrivano un po' tutti quanti, tutto il cartello, quindi siamo qui. Abbiamo già fatto una serie di cose e stamattina una colazione a Holy Crypto, ragazzi, dove abbiamo parlato solo e esclusivamente di crypto con altri amici e ci saranno tante news che penso di portarvi qui sul canale proprio in questi giorni, ma oggi volevo fare un piccolo commento sulla questione legata al Parlamento Europeo che ieri è andato a dare l'ok per quanto riguarda il controllo ed il KYC sui wallet privati, insomma il controllo sugli spostamenti, eccetera. Allora ragazzi, al di là della questione legata a che cosa hanno detto, che cosa hanno fatto, vi ricordo che comunque poi c'è il Parlamento che dovrebbe dare l'ok su questa normativa quindi c'è ancora spazio un po' per ridiscutere la questione. Il concetto però di fondo è sempre lo stesso, cioè il tentativo di inglobare questo mercato che finora è stato estremamente libero, ragazzi, da controlli importanti, insomma, diciamo così, inglobarlo in quello che è il sistema fiat dello scambio di moneta, di denaro, di valore. Questo tentativo è una mission, un po' di chi fa le regolamentazioni, quindi delle regolamentazioni, è una mission e deve essere preso in considerazione perché io penso che nell'arco di un anno e mezzo, due, ci sarà una forte spinta alla regolamentazione dei settori delle criptovalute. Già abbiamo visto, soprattutto in Italia, anche un forte blocco relativamente a quello che erano le carenze di dati e di documentazione su Binance, per esempio, sugli exchange proprio top leader come Binance e anche altri, ad esempio abbiamo visto la questione della console legata a PrimeXBT che ha bloccato e bannato il sito per mancato rispetto delle regolamentazioni sulla questione degli intermediari, ma non solo questo, per esempio, nella settimana scorsa c'è stata la questione di N26, anche questa carta cripto strafamosa, bloccata in Italia per via della questione proprio delle cripto, l'Europa che fa tutta questa solfa legata alla regolamentazione e addirittura, insomma, crea un precedente che non è bello, non è bello da un punto di vista di idea, perché quello che sta cercando di fare è cercare di inglobare l'intero mercato cripto in un settore che è quello standard, quindi regolamentazione, KYC, dappertutto, limitazioni all'invio, insomma, tutto quello per cui è nato, in pratica, il settore cripto, cioè il libero scambio di valore che è la base, la mission un po' di Bitcoin, almeno secondo quello che è il concetto del Bitcoin standard, quindi riserva di valore e libero scambio di valore tra soggetti privati verrebbe meno se queste normative poi vanno in porta. Allora, è una battaglia come ormai diciamo da sempre, è una battaglia che bisogna portare avanti, ragazzi, e era impensabile che i regolamentatori non mettessero la manina proprio in queste cose, il problema è che se lo fa l'Europa probabilmente poi lo faranno anche gli Stati Uniti, quindi la cosa non sarà il massimo. Poi c'è da chiedersi se effettivamente questo tipo di questione va a modificare un po' l'andamento dei prezzi degli asset cripto. Allora, sono due cose separate, perché da un lato abbiamo una questione che riguarda la regolamentazione che va a colpire soprattutto la DeFi, quella che è successo ieri, l'altro ieri in Europa, perché in quel caso non avrebbero così libertà di muoversi, dall'altra però abbiamo sempre il concetto di cripto come mercato alternativo, di cripto con la possibilità di creare nuovi business e tutto quello che è il discorso che ci siamo sempre detti, di bitcoin come riserva di valore, di blockchain come sostegno e futura tecnologia di sviluppo dell'economia mondiale, è tutto quello che ci siamo sempre detti. Quindi da un lato abbiamo meno libertà, dall'altro abbiamo più possibilità di azione, perché se è vero che la regolamentazione un po' va a toccare proprio quello che era la mission, il vero nucleo dei mercati cripto, soprattutto di bitcoin, cioè la libertà, come vi dicevo, di scambio senza intermediari, in questo caso gli intermediari non ci sono, però mettono sempre la manina perché vogliono vederci chiaro e poi andranno ovviamente a... Una volta ragazzi che conoscono i dati possono fare tante altre cose, per esempio possono decidere di tassare gli scambi, possono decidere di muoversi in un modo o nell'altro, insomma non è una cosa corretta e non è una cosa bella che sicuramente tutti quelli che sono i massimalisti nel settore dell'ecripto non apprezzeranno e bisognerà lottare, ragazzi è inutile, lottare a tutti i costi. L'Europa si sa è sempre leggermente un po' più dura rispetto ad altri paesi su queste cose, speriamo che in questo caso rettifichino questa idea di regolamentazione e che anche questo tentativo di regolamentazione faccia un buco nell'acqua. Dall'altro però un mercato regolamentato diventa molto più spendibile da un punto di vista economico perché è aperto a tutte le imprese, è aperto agli istituzionali di tutti i tipi, quindi un mercato regolamentato ragazzi da una parte è meno libertà, dall'altra è più business, più possibilità. Quindi è un po' la stessa medaglia con due facce differenti. Non vi do la mia opinione, anzi fatemi sapere la vostra idea. Voi come le preferite le cripto libere e totalmente è un po' anarco economia come è stata teoricamente anche in questi anni, oppure regolamentate, annesse al sistema che già conosciamo, però grazie a questo con grandi possibilità di business, di creare grandi innovazioni nel futuro eccetera eccetera. Ricordiamo che la questione è ancora in ballo. Poi c'è da chiedersi, ma nella storia queste regolamentazioni, questi tentativi di regolamentazione, che cosa hanno provocato? Allora abbiamo visto ieri il ribasso del settore delle criptovalute proprio subito dopo l'approvazione di questa norma eccetera. Quindi la reazione c'è stata e non è stata una reazione leggerissima. Vi faccio vedere il grafico per esempio di Bitcoin, però dovremmo anche andare a cercare di comprendere il fatto che spesso questo tipo di reazioni lasciano il tempo che trovano, perché in realtà non dura tantissimo la fase di ribasso dopo queste news. Quindi teoricamente spesso è capitato che queste news ragazzi sono dei buy on news, si chiamano così. Quindi le fasi di ribasso che i mercati vanno ad affrontare dopo news di questo tipo sono quasi sempre dei super buy per le prossime settimane. Anche in questo caso sembrerebbe così, perché vi faccio vedere il grafico di Bitcoin. Intanto eravamo un po' in bilico già dalla scorsa settimana sulla questione della chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Se avesse fatto un ciclo ternario, quindi con delle clause differenti, oppure semplicemente stava allungando la questione ciclica. Sembrerebbe così, perché il minimo della giornata di ieri è da 36 giorni. Quindi se per caso già da domani il mercato, ricordiamo che siamo nel weekend, dovesse iniziare a riprendersi anche in vista del fatto che ieri il ribasso comunque è avvenuto, come sempre, ancora una volta, anche in correlazione con i mercati old che sono stati ribassisti anche nella giornata di ieri. Quindi questa fase qui corrisponde a due livelli diversi di buy on news, ragazzi. Primo, una news ha spinto questo ribasso e anche la correlazione con i mercati old. E questa è una... solitamente, diciamo, non è una buona cosa perché quando le news modificano un po' i prezzi del mercato dura poco perché in realtà una news non ha un grande impatto. È vero che quella di ieri, se venisse confermata in toto, potrebbe essere estremamente rilevante, quindi è da prendere con le pinze. Però, poi abbiamo un'altra questione, l'analisi ciclica, la nostra amata analisi ciclica, ci dice, in pratica, che qui eravamo nella possibilità di chiudere un ciclo mensile che così sembrerebbe essere, ragazzi, perché abbiamo un primo ciclo mensile di questo nuovo semestrale già chiuso probabilmente a febbraio e questo dovrebbe essere il secondo. È vero, è 36 giorni, ma 36 va benissimo per un ciclo mensile. Ma di questo ve ne parlo poi nei prossimi video perché poi ne parliamo magari il lunedì quando facciamo il video classico della nostra analisi ciclica, ragazzi. Però, allora, questa struttura, da un punto di vista di analisi ciclica, ci sta tutta. Quindi, allora, abbiamo un ribasso che concide con la nostra formazione di un nuovo mensile fatto così. Quindi, uno e due mensili fatti appunto in questo modo. Poi abbiamo un'altra cosa che è un livello di analisi tecnica, ragazzi, cioè il pullback della resistenza a 45.000 dollari. Questo pullback è avvenuto alla perfezione nella giornata di ieri e in più il mercato è andato anche a impattare sulle due medie mobili che vado a utilizzare, insomma, queste due qui. Allora, in fin dei conti, questo tipo di movimenti non sono particolarmente preoccupanti. Quindi, da un certo punto di vista, la questione news va recepita e va compresa la questione della regolamentazione. Bisogna lottare, ragazzi. E questi sono i due poli, secondo me, che si contenderanno la questione cripto. Quello che vi ho detto all'inizio del video. Quindi, la questione libertà e privacy, la questione regolamentazione, sviluppo nuove tecnologie ad option molto più veloce. Da altro punto di vista, non sembra che la questione dell'analisi dei prezzi di Bitcoin venga modificata strutturalmente da news di questo tipo. Perché probabilmente la questione regolamentazione è già stata inclusa nei prezzi, come spesso accade. Quindi viene data un po' per scontata. Abbiamo fatto, quindi, un ribasso che potrebbe essere coincidente con la chiusura del ciclo mensile, ma soprattutto, da un punto di vista di analisi tecnica, coincide sicuramente con il pullback del livello di resistenza rotta la scorsa settimana. Quindi, in teoria, abbiamo pullback, pullback sul livello di resistenza, pullback sulle mie due medie mobili, chiusura di un ciclo mensile in corso, e un sell the news, quindi un sell che è avvenuto, un dump che è avvenuto in concomitanza con le news e con la correlazione dei mercati con Nattac100 e i mercati americani che hanno dato la spinta. In sostanza, sembra un must buy the dip. Questo tipo di livello. Io personalmente non ho fatto l'operazione, come sempre non do consigli finanziari, vi parlo di quello che vedo in generale, perché sto seguendo una strategia, nella mia academy, seguiamo la strategia monthly strategy sulla volatilità, una strategia ibrida che ho creato attraverso aciclica e analisi quantitativa statistica, quindi un trading system in pratica, ragazzi, che però eseguiamo manualmente. Abbiamo dei livelli di dip, soprattutto, però questa strategia si sviluppa nella prima decade del mese di ogni mese, quindi in questo caso, prima decade di aprile. Perciò sono in fase di attesa. Ma nei prossimi giorni, se dovessimo, per esempio, ritoccare quota 44-43, perché no? Potrebbe essere un buy the dip in attesa proprio di questa strategia che sto seguendo. Ovviamente, ragazzi, io seguo delle strategie che hanno trading plan già creato, stop loss già immesso, take profit già in mente, non li metto sul broker, ma sono tutti già costruiti, quindi queste cose non potete copiarle se non sapete quello che state facendo. Prima, formatevi che è fondamentale, studiate, comprendete come si fanno certe cose e soprattutto impostate le strategie. Va bene? Quindi non copiate quello che dice qualcuno o io o nessun altro, ma fate le vostre strategie, elaborate le vostre idee che è fondamentale e studiate. Però l'idea è questa qui, è quella che vi ho detto. Quindi in questo momento vediamo come girerà il weekend e siamo in attesa. Vi ho fatto vedere un po' questa struttura di analisi tecnica, vi ho anche un po' spiegato come analizzare delle news, a volte come guardare sugli grafici che cosa veramente significano e poi soprattutto anche questo è un modo per non farvi prendere dal panico se per esempio avete un po' paura su queste cose. E niente, oggi video un po' particolare, da qui ora esco perché mi aspettano 29 gradi e un super sole. Ciao a tutti raga!